Se hai un gatto, sicuramente vorrai dargli un dolcetto ogni tanto, sia perché si è comportato bene, ha imparato un comando, o semplicemente perché è adorabile. In questo video di Malpidia ti mostreremo le migliori ricompense per gatti di qualsiasi età o condizione. Da non perdere! Biscotti per gatti Iniziamo con gli snack più popolari. Di solito sono di piccole dimensioni di consistenza dura, anche se possiamo trovare alcune opzioni con esterno croccante e ripieno cremoso. Esistono tantissime varietà per gatti di tutti i tipi, oltre a gusti diversi. Essendo generalmente di piccole dimensioni, queste ricompense sono facili da masticare e da ingerire. Possiamo offrirle ai nostri felini come regalo, o come rinforzo positivo se stiamo cercando di insegnarli qualcosa. Uno dei vantaggi dei biscotti è che si conservano facilmente e tendono a mantenersi in buone condizioni per molto tempo. Se preferisci, puoi anche provare a preparare dei biscotti casalinghi con la ricetta che ti spieghiamo in questo video. Barrette per gatti Un'altra delle migliori ricompense commestibili per gatti sono le barrette e i bastoncini. Queste si trovano in commercio in piccole dosi o facili da rompere, oltre che da conservare. La loro consistenza può variare, quindi ne troveremo sia di dure che di più molli. Come i biscotti esistono molti sapori e varietà per soddisfare i gusti di tutti i tipi di gatti. Paste per gatti A differenza dei biscotti e delle barrette, le paste per gatti sono quelle prelibatezze commestibili che hanno una consistenza morbida. Tra tutte spiccano le paste al malto. Queste vengono solitamente offerte al micio più come medicinale, per favorire un corretto transito digestivo, che come premio. Ma la verità è che possiamo dargliene perfettamente come ricompensa se il nostro gatto ama il suo sapore. Potete offrirle al vostro felino mettendone una piccola quantità sul dito, o mettendola su una delle sue zampe anteriori, in modo che lo ingerisca leccandosi. Inoltre, esistono anche delle creme per gatti, che possiamo offrire loro, mettendola in una piccola quantità sul dito, o direttamente nella ciotola. Infine, esistono anche delle salse che generalmente vengono utilizzate per ammorbidire il cibo secco. Premi per gatti speciali Possiamo trovare varietà di ricompense in base alla loro età. Ad esempio, esistono dolcetti per cuccioli o per gatti più anziani. Inoltre, ve ne sono anche per gatti con problemi di salute. Ad esempio, per chi soffre di patologie che colpiscono il sistema urinario o gastrointestinale, ovesità, cattivo aspetto del mantello, stress o problemi orali. Tieni presente che questi tipi di ricompense non sono farmaci, non cureranno il gatto, non importa quanto ne ne darai. In questi casi, bisognerà seguire sempre le indicazioni del veterinario. Catnip o erba gatta Esistono anche altri tipi di ricompense per gatti, che però non sono commestibili. Possiamo acquistare dell'erba gatta da tenere in casa e con cui il nostro felino potrà giocare. Puoi trovare in vendita i semi e piantare la tua piantina, ma sono disponibili anche giocattoli con questo aroma, che sono in grado di far impazzire il nostro gatto. Scopri gli effetti e benefici dell'erba gatta nel video che ti abbiamo preparato. Giochi Giocare con il tuo gatto è sempre una delle migliori ricompense, non solo con i giocattoli di Catnip. Qualsiasi oggetto ha un potenziale giocattolo per il nostro felino. Tiragli una pallina di carta o dagli una scatola di cartone. Il divertimento sarà assicurato. Inoltre, in questo modo, lo aiuteremo a mantenersi in forma. Massaggi Per coccolare i gattini, qualche minuto di carezze rilassanti può essere una grande ricompensa. Inoltre, questo rafforzerà il vostro legame. Soprattutto se scegliete un momento in cui il gatto è ricettivo. Accarezzatele su zone preferite e fermatevi se notate che l'animale non ha più voglia. Dicci, quale di questa è la ricompensa preferita del tuo gatto? Faccelo sapere nei commenti. Alla prossima! Alla prossima!